Sto lavorando e non sono capace di esprimermi cosa che provo in questo momento. Era un grande mio amico, oltre che alpino. Lavoravamo assieme per altre cose. È una giornata pesante per Mario e per tutte quelle persone sono davvero tante a Sernaglia che conoscevano Giorgio Frezza, il 66enne morto in un frontale a Cadoneghe sulla strada regionale del Santo. Frezza era a bordo del suo furgoncino quando forse per un malore, forse per un sorpasso azzardato, ha impattato contro un Alfa 159 che procedeva in direzione opposta, uno scontro omicidiale nel quale è stato coinvolto anche un altro veicolo. Tutti i mezzi sono ora sotto sequestro con i rilievi affidati ai carabinieri di Vigonza. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di una comunità dove il 66enne lascia una moglie e due figlie dopo una vita al lavoro in questa officina, oggi passata di mano. Era il meccanico anche del comune, perché per quanto poco siamo una piccola comunità e tutti quanti lavorano assieme e collaborano. E anche se in pensione lui continuava ad essere sempre attivo per risolvere problemi, era veramente il mago della macchina. Era una bella persona sicuramente, una bella persona per quel poco che l'ho conosciuto, senz'altro. È un macello sulle strade, è una cosa che non tutti aspettano, insomma. Le ha fatto una triste fine, bravo, onesto, non si può dire niente. Dopo con gli Alpini, le ha sempre impegnato con gli Alpini. E a sottolineare il suo impegno con gli Alpini è anche il sindaco Mirko Villanova, che lo ricorda soprattutto per la sua generosità. Sempre pronto, tu lo chiamavi e lui rispondeva subito. Ti serviva qualcosa e lui era sempre pronto. Per tutti, non per gli Alpini solo, questo è un Alpino che io, è di vecchia data anche. Lui ha 66 anni, io ne ho 82. Perciò è così. Grazie.